Non pensare a quello che di negativo è accaduto in questa settimana, ma continuare a lavorare per migliorare le prestazioni e per dire la nostra anche su un campo difficile come quello di Matera. E' stato questo il modus operandi del tecnico della Fidelissandria Aldo Papagni dopo la sconfitta casalinga incassata contro il Trapani e il punto di penalizzazione inflitto alla società del presidente Paolo Montemuro dal Tribunale federale nazionale. La sfida al Matera in programma domenica sera sul terreno del Franco Salerno sarà un banco di prova importante per gli azzurri che in terra lucana dovranno fare a meno di curcio appiedato per due turni dal giudice sportivo. Una defezione che non preoccupa più di tanto il tecnico biscegliese che ha chiesto ai suoi concentrazione per tornare a conquistare punti preziosi. Abbiamo cercato di ricordare un po' le mie prime parole quando sono arrivato, che non possiamo lasciarci disorientare da quello che sono tanti pensieri negativi che possono avvenire, soprattutto quando ci sono degli episodi negativi perché ci toglierebbero tante energie. Abbiamo analizzato quello che di negativo c'è stato in questa settimana, non tanto quello del punto di penalizzazione ma quella che è stata la nostra prestazione, gli errori, il gol subito, l'espulsione gratuita e quindi abbiamo messo in evidenza anche gli aspetti positivi. Non ultimo anche il fatto che se avessimo dovuto prendere tre punti è meglio che li abbiamo presi a Siracusa con l'Agragas che non con il Trapani e quindi abbiamo lavorato sul miglioramento della prestazione che è fondamentale. Diciamo che il calo è venuto in concomitanza nell'assenza di Strambelli, di Mattera, De Frank, di giocatori importanti che sono stati recuperati e quindi dobbiamo comprendere che andiamo ad affrontare una squadra di ottimo livello che ha avuto questo blackout in concomitanza di queste assenze però.